Buongiorno, Presidente, 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 io penso che al momento di stare iniziando, a partire ora, non può essere guidato con una semplice assurda, così con una parte del sindaco, noi operiamo nel senso e nel senso di una trasparenza della religione. Se abbiamo finito su questo momento, lo abbiamo fatto a ragione tutta, non a dire... Se lo vedo qui, io vi andavo a fare in cima a te, e a te, a te, a te, a te, a te... Non divagare, a uno. Se lo chiediamo con un buon pozzo che venga applicato il regolamento, e perché, evidentemente, abbiamo una cosa che è sotto i giorni di oggi, quante volte è stato disattento. se lo chiediamo con un caso, e non voglio offendere nessuno dicendo questo, poi dall'aggetto se lo chiediamo a parte da oggi, si capisce che è giusto, che ha fatto delle altre cose. Io ricordo che la nomina per il Consiglio di Amministrazione di Cazzo e di Amministrazione come il Piero Castro, che ha avuto il Consiglio di Amministrazione 1 e il Consiglio di Amministrazione 2, nel giù di 30 giorni, in quel caso è stato nominato il Presidente di Cazzo e di Amministrazione che non solo non aveva mai fatto la domanda, ma di posta agli atti la domanda, così come il Presidente di Amministrazione 2, ma era da escludere, in parte al Particolo 4, intorno, oma è il Consiglio di Amministrazione 1 e suale Il Consiglio è, non è ben cariggato il Presidente di Cazzo e di Amministrazione è unizione gratis di cui era un allenamento del Comune di ogni ogni man systeme, ovvero il Consiglio di Amministrazione è un conc Curante, la domanda, il Presidente di Amministrazione 2 e di Amministrazione e con un'altra parte, oltre a un'altra parte, era un'unice delle comuni, perché aveva un capito, aveva un capito nella sua vita in Europa. Quindi, a questo punto, va a dare la legge sta venerata, di chiedere, a invenzione questa volta, a invenzione questa volta, di aspettare ciò che si vede in un momento, cioè andiamo a dare il senso del senso, della legittimità, queste cose qui, come adesso ce l'abbiamo, e poi il senso allargare il mondo del senso, per rendere la partecipazione dei cittadini più o meno e meno. Allora, quindi, questo è il momento, a questo tempo, oggi è il momento, la Roma è il momento che ho visto, si è già che si è già da un'altra partecipazione dei cittadini più o meno, ma da te, perché la richiesta vive in partecipazione, da un'altra partecipazione, da un'altra partecipazione, da un'altra partecipazione, da un'altra partecipazione, di potere.